Forza, l'applauso deve essere forte, forza, forza, forza! Missa Lady Rosa Blu, stupenda, guardate! Guardate che abito da sposa, meravigliosa! Questo è un assaggio che faremo il 12 agosto Sarà una serata speciale E questo è l'assaggio del 12 agosto Ma va bene un giro intorno così che vengono bene Ma va bene un giro intorno così che vengono bene E' una cosa che ci unica Ma schiorarla con le lina Stupenda direi, questo era il tutto finale Farei un grande applauso a Laura perché lei ci mette sempre in cuore in tutto E la voglio ringraziare perché ti aiuta sempre Grazie Laura di cuore E poi sarà la mia madrina, rimani vestita così perché sei stupenda Grazie a tutti! Grazie a tutti!